Il dispiegamento di uomini, donne e unità navani messo in campo dalla Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera di Portempedocle, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2017, ha determinato i primi esiti positivi a favore della sicurezza dei bagnanti e dei diportisti. Nelle prime giornate di attività operativa sono state sequestrate due reti da posta di lunghezza pari a circa 100 metri ciascuna, e una rete della stessa tipologia pari a circa 250 metri, depositate in modo irregolare nella fascia di mare riservata alla balneazione. Solo in due casi è stato possibile risalire ai proprietari che sono stati sanzionati con un verbale amministrativo di 1000 euro ciascuno. Su quattro natanti, cui proprietari non sono stati immediatamente identificati, sono stati apposti i cartelli di diffida alla rimozione perché ancorati nella fascia di mare riservata alla balneazione. Nell'ambito dei controlli presso gli stabilimenti balneari sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto Empedocle si è accertato che ben tre non erano in possesso di alcune importazioni, dotazioni di sicurezza, mancanza del servizio di salvamento o dotazioni mediche di primo soccorso. Pertanto i titolari sono stati sanzionati con un verbale amministrativo di 1032 euro e inoltre si è provveduto ad emettere di fida la sospensione temporanea dell'attività fino al ripristino delle condizioni minime atte a poter garantire la sicurezza e la fruizione sicura dell'attività balneare. In uno degli stabilimenti sanzionati per la violazione dell'ordinanza balneare è stato inoltre elevato un ulteriore verbale amministrativo di 1500 euro per mancanza di tracciabilità del pescato pari a circa 10 chili destinato al ristorante annesso allo stesso. Lo stesso pescato è stato posto sotto sequestro. è stato inoltre elevato un po' a circa 10 chili